Nel cuore del North Carolina, una Tesla Model Y a guida autonoma si è trasformata in un eroe improvviso, salvando la vita di un uomo in una situazione critica. Non crederai mai a quello che è successo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Max Paul Franklin, proprietario della vettura, ha vissuto un momento di estrema emergenza mentre si trovava alla guida, colpito da una grave disidratazione e sbalzi glicemici che avrebbero potuto essere fatali. È stato un malfunzionamento della pompa d'insulina a causare l'improvviso aumento dei livelli di glucosio nel sangue, portandoli a un pericoloso picco di 670. Ma la tecnologia avanzata della Tesla ha trasformato ciò che avrebbe potuto essere una tragedia in un miracolo moderno. Attivando il sistema autopilota della sua Model Y, Franklin ha lasciato che l'auto prendesse il controllo. Senza alcun intervento umano, la vettura ha percorso con sicurezza 20 km fino al pronto soccorso più vicino. Una volta arrivata a destinazione, la Tesla si è parcheggiata autonomamente, consentendo al suo passeggero di ricevere immediatamente le cure mediche necessarie. Senza alcuna mia interferenza, l'auto ha abilmente affrontato il viaggio dalla mia abitazione al pronto soccorso dell'ospedale per veterani, offrendosi di parcheggiare in autonomia una volta arrivati, così da permettermi di ricevere immediata assistenza medica. Ha condiviso Franklin in un post su Twitter, accompagnato da una foto che testimonia la sua vicenda straordinaria. Il commento di Elon Musk, il CEO di Tesla, sotto il post su Twitter, ha sottolineato il successo della tecnologia nel salvare vite umane. Sono felice che il sistema di guida autonomo della Tesla sia stato d'aiuto e che tu ti senta bene. Questa storia, che si svolge tra la corsa all'ospedale e il sostegno di una tecnologia all'avanguardia, dimostra ancora una volta come l'innovazione possa rendere il mondo un luogo più sicuro e compassionevole. E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!